Siamo arrivati a Laurena Fattoria Sant'Anna Let's go baby Guardate, Miraggio Ok, ci siamo Ah qui dobbiamo guardare La camera A te belli Ma io dai ma che cos'è Guardate Guarda Ma incomincio io Noi siamo nati Quando siamo nati noi? Abbiamo iniziato questa attività qua nel 96 Questa era una terra brulla dove non c'era quasi niente C'erano solo degli ulivetti abbandonati Terra di nessuno e di lati tanti Ci sono voluti 10 anni per portare avanti 10 anni di lavoro In una realtà come questa è bruttissima Qua siamo proprio nel centro a Spromontano Siamo a 600 metri di altezza Ho dovuto fare oltre 30 denunce ai carabinieri Ci hanno tagliato gli alberi Ci hanno bruciato le porte Ci hanno messo le croci Ci hanno minacciato Tutti ci hanno fatto Ma lei imperterrita continuava a lottare No, non è questo Ma io volevo ritirarmi a un certo punto A stranze è lei che ha voluto proprio fare una cosa Ogni anno ci mettono cuoco Noi abbiamo 10 ettari di bosco intorno Ogni anno rischiamo pure la vita Nel senso che andavamo a spegnere noi con i miei figli Loro segnano una cosa importante Questa è terra nostra Qua comandiamo noi Questa gentaglia aveva sempre di fronte gente che aveva paura E sulla paura costruiva il loro potere Con noi questo meccanismo si rompe Noi non abbiamo paura Non è che non abbiamo paura La paura ce l'hanno tutti gli esseri umani Però bisogna raggiungere quando uno vuole raggiungere un obiettivo Ma non devi pensare alla paura Mia fermati Ogni giorno ha questa caratteristica E questa è una caratteristica di tutta la Calabria E vengono queste cose Il dato di fondo qual è? Che non c'è da parte dello Stato Un aiuto reale rispetto a queste questioni Cioè, come dire, sembra che siano cose naturali Con tutte queste difficoltà abbiamo realizzato Un'azienda agricola biologica Azienda agricola agrituristica Dove sostanzialmente offriamo Oltre al servizio di ristorazione Perché abbiamo un ristorante tipico calabrese Abbiamo 10 stanze per dormire sopra Abbiamo i percorsi didattici per i bambini Noi produciamo roba di alta qualità In questa azienda chi viene mangia frutti di stagioni Entra in armonia con quella che è la dieta macrobiotica Cioè, nel senso che tu vivi in rapporto alla natura E in equilibrio della natura Mangiando quello che la natura in quel momento ti produce Abbiamo il bosco che ci dà i suoi frutti Poi abbiamo la terra che ci dà l'altro E abbiamo anche sostanzialmente gli animaletti Che devono essere tutelati e protetti Abbiamo anche due volpi che ci mangiano le galline Però noi non li ammazziamo E che ci dispiace Devono vivere pure loro E' dolcissimo La assaggiamo in diretta Io sono il Presidente regionale dell'Io, l'Associazione Italiana Agricoltura e Biologica, dove dentro ci sono anche gli agriturismi biologici. Noi siamo un'azienda biologica certificata, nel senso c'è un'azienda di certificazione che si chiama ICEA, che viene e ci controlla come stabilisce la legge. A quanto a questo, noi facciamo parte di un circuito di garanzia dove l'Associazione Italiana Agricoltura e Biologica garantisce che quell'azienda rispetta i canoni del biologico. Noi abbiamo scoperto che c'è tutta questa partita dell'olio di semi, olio di sansa, olio di noccioline e così via, che viene riciclato in Italia, attraverso uno meccanismo che viene mischiato con un po' di verdone, un po' di olio nostro lampante che gli dà sapore e ti ottiene una bottiglia che è stravergine per sapore e così via, ma di olio là dentro non c'è niente. La gente consuma questa roba senza rendersi conto di... Ma guarda poco, ma non sa quello che mangia. Mancano i controlli in Italia, cioè è molto più semplice andare a bersagliare un povero produttore che andare a colpire questi multinazionali che forniscono questi prodotti di merda, scusate l'espressione, che poi vengono messi sugli scaffali a prezzi... Io non posso vendere il mio extravergine a 2,49€, non riesco proprio, ma nemmeno il più grande produttore riesce. Come fanno sta gente a mettere 2,49€ un litro di extravergine? Qua ci vuole il lavoro di Dio, noi abbiamo 6 operai che manteniamo qua a lavorare con noi. Noi facciamo parte pure di una rete di via Campesinos che pone un problema del rispetto della dignità dell'uomo, perché non si può produrre sfruttando le persone. Da noi i lavoratori sono pagati il giusto rinnumerazione, vengono registrati regolarmente, perché francamente è assurdo che tu possa costruire un mondo migliore partendo diciamo dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Io invece vorrei che i miei figli non vanno a pelare, vanno a fare quell'ambiente tutto pieno di fumo, e mi seguono i vari problemi che ho io qua, poi se vogliono andare vanno e non lasciare a perdere tutte queste bellezze, che io ho dovuto fare tanti sacrifici da quando sono nata fino adesso e ho portato avanti e poi vedere, diciamo, sbalire nel nulla perché i giovani purtroppo non vogliono fermarsi in Calabria, in campagna, perché non lo so perché vuoi. No vabbè, il problema è vero, esiste, cioè tu rimani in campagna se hai un certo reddito, nel momento in cui tu non riesci a recuperare il reddito cerchi altre strade, per cui l'obiettivo nostro è quello che i nostri prodotti vengono collocati sul mercato direttamente abbiano la giusta remunerazione, c'è il problema di organizzazione e di sapere pure operare all'interno di un mercato globale che oggi è aperto a tutto. Noi stiamo costruendo come organizzazione 600 negozi in tutta Europa per poter portare i prodotti dalla Calabria lì direttamente. Noi vorremmo realizzare questo, che questi posti fossero meta di un turismo più grosso, più largo, da parte anche sia del nord Europa che dell'Italia. Speriamo che in futuro ci possa essere qualcuno che ci imiti, perché da solo non andiamo in nessun posto. Noi abbiamo bisogno di creare una struttura di questo tipo in tutta questa zona, in modo che la campagna venga abitata, venga coltivata in maniera ecosostenibile, perché senza usare disservanti con cimi chimici e tutta questa roba qua, e si offre un turismo di massa internazionale che francamente, o prima o poi, dovrà avvenire. Ok, ci siamo. Salvatore, me lo porterò dietro per sempre. Anzi, Salvino. Salvino. Guardate cosa c'è il regalato. Un omaggio. Cioè, non so come descrivere questa persona, ma ha conosciuto una persona del genere. Mi ha veramente, mi ha lasciato tantissimo, tantissimo. Anche sua moglie è gentilissima, carinissima. Vi salutiamo con molto amore e calore. Sì, diciamo sì. Non mettete queste cose. Sì, diciamo sì. 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 Sì, diciamo sì.